risponderemo con il sorriso dopo Giorgia Meloni anche Matteo Salvini stigmatizza gli attacchi violenti da sinistra ai neopresidenti di Camera e Senato il leghista Lorenzo Fontana e Ignazio Larossa di Fratelli d'Italia la sinistra, accusa il segretario del Carroccio, non si rassegna e attacca con violenza la seconda e la terza carica dello Stato, appena democraticamente elette un clima di odio che va avanti da mesi e che continua a produrre attacchi fisici, minacce e insulti, in un momento in cui servirebbero unità e serenità, in Italia e nel mondo la Lega e il centrodestra, assicura Salvini, risponderanno col sorriso e col lavoro a questi violenti attacchi e sono sicuro che anche fra Giorgia e Silvio tornerà a quell'armonia che sarà fondamentale per governare, bene insieme, per i prossimi cinque anni punto proprio di clima d'odio parla anche la Meloni, più o meno negli stessi minuti, intervenendo riguardo le minacce ricevute dalla Russa sui muri della sezione di Fratelli d'Italia alla Gabatella, a Roma. È apparsa la scritta contro l'ex ministro della difesa, la Gabatella Tischifa, accompagnata da una stella a cinque punte, richiamo esplicito alle Brigate Rosse Salvini e Meloni hanno anche sottolineato come dal mondo progressista non sia arrivata nemmeno una parola di condanna verso questo gesto Diversi esponenti politici hanno deciso di renderle un bersaglio, sono le parole della Meloni sulla russa, come persona e per le sue idee, rinfoccolando un clima d'odio, già ben alimentato durante una campagna elettorale costruita sulla demonizzazione dell'avversario politico Spero che il senso di responsabilità della politica prevalga sull'odio ideologico, perché l'Italia e gli italiani devono tornare a correre, insieme Grazie a tutti